Con una guerra in corso, che spero finisca il prima possibile, avere un ministro degli esteri senza partito sicuramente per un paese importante come l'Italia non è il massimo della vita. Lo ha detto Matteo Salvini parlando a RTL 102.5. Non siamo noi a chiedere una poltrona in più o in mano, sicuramente che il ministro degli esteri abbia fatto la scelta di mandare a quel paese il paese con cui è stato eletto, con una guerra in corso, solo in Italia poteva succedere. Ha aggiunto Salvini, non metto il becco in casa altrui, anche perché i problemi degli italiani non sono se vince Conte o Di Maio, non essendo il derby Milan-Inter. Spero che le beghe dei 5 Stelle non occupino le pagine dei giornali per settimane perché rallentano ovviamente tutto quello che bisogna fare. Per esempio, ha detto, ci sono da prendere misure urgenti per aiutare i settori colpiti dalla siccità e non vorrei che queste beghe siccome il ministro dell'agricoltura e dei 5 Stelle però Di Maio non è più dei 5 Stelle rallentassero la vita reale, le vacche non aspettano, i raccolti non aspettano. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.